Sono segnalati tutti in gruppo con l'attattore a un momento sostenuto quando siamo a circa un'attività, e poi rientrare e andare in cura gruppo compatto Se andiamo alla tappa del montaggio, prima dello strato conclusivo aveva perso contatto poi era capitando di quel lieve tratto in falso piano dove la strada si addolciva uno sforzo ulteriore per ributtarsi comunque davanti e pilotare tutto il posto